l'interno del negozio era molto più calmo della strada il padrone con notevole intuito aveva abbassato la saracinesca d'energia appena si erano profilati i guai impedendo l'ingresso alla folla minacciosa l'espediente aveva bloccato all'interno i primi agitatori ma questo era un problema minore balay passò attraverso la barriera usando il neutralizzatore che aveva in dotazione e inaspettatamente trovò daniel ancora dietro di lui l'automa stava rimettendosi in tasca un neutralizzatore simile a quello di balay ma più piccolo e sottile e nel complesso più funzionale di quello che usava la polizia il padrone del negozio corse immediatamente verso di loro parlando a voce alta agenti agenti i nuovi commessi mi sono stati assegnati dalla città sono perfettamente nei miei diritti c'erano tre robot allineati dietro il banco sei esseri umani si accalcavano in prossimità della porta di energia e tutte donne va bene gente va bene disse balay asciutto che diavolo succede qui perché tutta questa confusione una delle donne disse con voce stridula sono venuta a comprare delle scarpe perché non posso avere un commesso normale che forse non sono rispettabile il suo abbigliamento e in particolar modo il cappello erano sufficientemente sgargianti per rendere la domanda del tutto retorica il rossore provocato dall'ira copriva appena il mascherone del trucco il negoziante disse l'avrei servita personalmente e lo farei se devo agente l'avrei fatto ma non posso servire tutti i clienti e nei miei nuovi commessi non c'è niente che non va sono iscritti all'ufficio del lavoro ho qui le carte e certificati di garanzia capito iscritti all'ufficio del lavoro urlò la donna poi con una risata stridula si voltò verso le altre ma sentitelo ne parla come fossero uomini che vi piglia tutti di un colpo non sono mica uomini sono robot e accentuò l'ultima sillaba vi dico io che cosa fanno caso mai non lo sapeste rubano il lavoro agli esseri umani e questo è il motivo per cui il governo li protegge lavorano gratis e a causa di questo intere famiglie sono ridotte a vivere nelle baracche e a mangiare i funghi del lievito famiglie per bene sapete che hanno lavorato sodo una vita se fossi io il capo qua dentro farei a pezzi tutti i robot ve lo assicuro le altre si consultarono confusamente mentre fuori cresceva il mormorio della folla balay sentiva la presenza di ro daniel accanto a lui la sentiva e lo metteva a disagio dette un'occhiata ai commessi e si vide che erano fabbricazione terrestre e per giunta a un modello non troppo costoso erano fatti per conoscere pochi dati essenziali come i vari tipi dei numeri di scarpa i prezzi e cose del genere erano capaci di ricordare quando un modello stava per finire e bisognava rifornirsi e in questo forse erano più scrupolosi degli esseri umani perché pensavano solo al lavoro e non avevano interessi esterni quando le scorte si assottigliavano gli automi riempivano i formulari per gli ordini e quando arrivava un cliente gli prendevano la misura del piede in sé del tutto innocui ma come categoria estremamente pericolosi balay capiva i sentimenti della donna con una profondità che avrebbe giudicato impossibile il giorno prima no due ore prima sentiva la vicinanza di ro daniel e si chiedeva se robot daniel non potesse sostituire un c5 qualunque come lui vide le baracche con gli occhi dell'immigrazione gli sembrò di sentire il sapore dei funghi e gli tornò in mente la storia di suo padre suo padre era un fisico nucleare la cui qualifica le aveva fatto salire ai vertici sociali della città poi c'era stato un incidente alla centrale atomica e la colpa era ricaduta su di lui era stato deglassato ma balay non conosceva i particolari perché era tutto avvenuto quando aveva solo un anno ricordava tuttavia le baracche della sua infanzia la sfibrante esistenza comunitaria appena al di qua della riga sottile che divide il sopportabile dall'insopportabile sua madre non la ricordava per niente non era sopravvissuta a lungo suo padre lo ricordava un uomo incavato schiacciato perduto che a volte parlava del passato a frasi spezzate morì declassato quando lì aveva solo otto anni il giovane valei e le due sorelle maggiori erano finiti nell'orfanotrofio del settore lo chiamavano il livello dei bambini beh il fratello della loro mamma zio boris era troppo povero per impedirlo e da quel giorno era stata sempre dura a scuola più dura ancora senza privilegi paterni con cui facilitarsi la strada e ora si trovava al centro di una specie di sommossa con il compito di reprimere uomini e donne che dopo tutto temevano soltanto la dequalificazione per sé e per i propri cari esattamente come la temeva lui si rivolse alla donna che aveva già parlato con voce piatta signora non combiniamo guai qui ok i commessi non le hanno fatto nessun male sicuro che non me l'hanno fatto crido la donna e non me lo faranno neppure crede che mi lascerei toccare da quelle dita fredde e un te di grasso sono venuta qui aspettandomi di essere trattato come un essere umano sono una cittadina e ho il diritto di essere servita da commessi umani e senta ho due bimbi che mi aspettano a casa per cena non possono andare alla mensa del settore senza di me come se fossero orfani devo uscire di qui ha capito senta lei si calmi disse vale la cui irritazione ricominciava a salire se avesse permesso quei commessi di servirla sarebbe già fuori da un pezzo sta facendo un inferno per niente ma guarda disse la donna che sembrava violentemente sorpresa forse pensa di potermi trattare come una pezza da piedi ma è tempo che il governo capisca la canzone e cioè che i robot non sono l'unica cosa che conta sono una che macchina duro io sa ho i miei diritti e andò avanti su questo tono interminabile vale si sentiva confuso e nauseato la situazione gli stava sfuggendo di mano anche se le donne avessero accettato di essere servite dagli uomini c'era sempre il problema della folla in esterno dovevano essere un centinaio davanti della vetrina nei pochi minuti trascorsi da quando i due agenti in borghese erano entrati nel negozio la folla si era raddoppiata qual è la procedura in un caso del genere chiese improvvisamente ro daniel olivaf balei fece un salto non succede spesso cosa dice la legge di ro sono stati assegnati qui sono commesso in regola con l'ufficio del lavoro non c'è niente che non va nella loro posizione parlavano a bassa voce e balei cercava di conservare un'aria minacciosa e autoritaria l'espressione di olivaf come sempre non diceva niente in tal caso disserò daniel ordina la donna di lasciarsi servire o di andarsene balei sollevò un angolo della bocca è con la folla che dobbiamo vedercela non con la donna non c'è altro da fare che chiamare una squadra antisommossa non dovrebbe essere necessario per i buoni cittadini farsi spiegare la legge da più di un agente commentò daniel poi volto all'ampia faccia verso il padrone del negozio tolga la saracinesca d'energia signore il braccio di balei scattò verso la spalla del collega per trattenerlo all'ultimo momento però ci ripensò se in una situazione del genere due rappresentanti della legge si fossero messi a litigare fra loro ogni possibilità di soluzione pacifica sarebbe sfumata il negoziante protestò e detto un'occhiata a balei balei evitò lo sguardo senza passione ro daniel ripetè glielo ordino con l'autorità della legge il padrone del negozio protestò riterrò responsabile la città per qualunque danno alla merce al locale capisce e voglio una dichiarazione che faccio questo sotto i vostri ordini la barriera fu tolta e la folla si riversò all'interno ci fu un ruggito di soddisfazione generale uomini e donne sentivano la vittoria nelle mani balei aveva già sentito di disordini simili e in un caso aveva anche assistito di persona aveva visto i robot sollevati da decine di mani i pesanti corpi di metallo incapaci di opporre resistenza portati a braccia dagli uomini esasperati e gli esseri umani facevano smorfie ai simulacri metallici della specie avevano usato martelli lama ed energia fucile ad ago finché le miserabili carcasse non si erano ridotte a un ammasso di lamiere contorte i costosi cervelli positronici la creazione più complessa dell'ingegno umano erano passati di mano in mano come palloni da football e in pochi minuti si erano ridotti in gusci inservibili e poi con il genio della distruzione ormai sprigionato i facinorosi si erano dedicati alla demolizione sistematica di tutto ciò che capitava sottotiro i commessi robot non sapevano niente di tutto questo ma quando la folla si riversò nel negozio alzarono le braccia istintivamente nel goffo tentativo di nascondersi la donna che aveva scatenato il pandemonio atterrita alla prospettiva di ciò che stava per capitare ansimò calmatevi calmatevi adesso gente calmatevi le cose erano andate molto al di là di quello che aveva previsto qualcuno le calò il cappello sulla faccia e la voce gli si ridusse a un indistinto piagnucolio il padrone del negozio urlò li fermi agente li fermi ro daniel a quel punto parlò senza sforzo apparente la sua voce si librò di qualche decibel sopra la media normale dell'uomo per forza si ripete balei per la decima volta non è un ro daniel disse il prossimo che si muove si becca un colpo qualcuno dal fondo gridò levatelo di mezzo ma per un attimo nessuno si mosse ro daniel salire agilmente su una sedia e di lì su un espositore infrangibile di transex l'alone colorato che emanava dalle fessure della pellicola polarizzata trasformarono la faccia fredda e liscia di daniel in una maschera ultraterrena 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 pensò balei la scena si era immobilizzata ro daniel troneggiava su tutto formidabile poi disse deciso state pensando che quell'uomo ha una frusta neuronica o un paralizzatore se ci buttiamo addosso a lui al massimo uno o due di noi verranno colpiti e anche quelli si riprenderanno e nel frattempo faremo il nostro comodo e che la legge e l'ordine vadano a farsi fottere nello spazio la voce non era né dura né irritata ma autoritaria aveva il tono di chi è abituato al comando ma vi sbagliate non ho una frusta neuronica e nemmeno un paralizzatore ho un fulminatore e quelli mortali lo userò e non punterò sopra le vostre teste ammazzerò parecchi di voi prima che mi prendiate forse anche la maggior parte parlo sul serio e del resto non ho l'aria di chi sta scherzando vero ci fu del movimento verso il fondo ma la folla non aumentò se qualche curioso si fermava a guardare presto decideva di squagliarsela i più vicini a ro daniel trattenevano il fiato cercando disperatamente di non cedere alla pressione delle ultime file e non avanzare la donna col cappello rupe l'incantesimo scoppiando in singhiozzi disse ci ucciderà ci ucciderà tutti non ho fatto niente oh fermi uscite di qua ma andate via via si voltò per andarsene ma davanti a lei c'era una parete innamovibile di uomini e donne la cliente cadde in ginocchio e il movimento verso il fondo si più pronunciato ro daniel balzò giù dall'espositore disse ora andrò verso la porta ucciderò l'uomo donna che mi toccherà quando sarò arrivato alla porta ucciderò chiunque uomo donna non se ne stia andando per i fatti propri la signora qui no 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 gridò la donna con il cappello le dico che non ho fatto niente io non ho fatto niente non volevo far del male adesso non voglio nemmeno le scarpe cerco solo di andarmene a casa la signora qui continuò daniel resterà e sarà servita da un commesso fece un passo avanti la folla lo fissava inespressiva vale chiuse gli occhi e pensò disperatamente non è colpa mia non è colpa mia ci sarà uno spargimento di sangue e un'interminabile serie di guai pensò ma loro mi hanno dato un robot come collega loro gli hanno assegnato la mia stessa qualifica loro non serviva a niente non credeva a se stesso avrebbe dovuto fermare ro daniel all'inizio avrebbe dovuto chiamare una squadra c'era stato tutto il tempo invece aveva preferito che ro daniel si assumesse la responsabilità e aveva provato il sollievo del codardo cercò di giustificarsi riflettendo che la personalità di ro daniel si era imposta naturalmente ma provò un fremito di disgusto verso se stesso un robot che dominava una situazione naturalmente ma non ci furono i soliti lamenti di urla e le maledizioni e vale riaprì gli occhi la folla si era dispersa il proprietario del negozio si stava già calmando si aggiustò la giacca tutta storta si risciò i capelli e borbottò qualche imprecazione verso la folla che scompariva un veicolo di pattuglia si fermò davanti al negozio proprio in quel momento con un sibilo dolce e modulato vale pensò ma certo proprio quando tutto è finito il proprietario del negozio si avvicinò quattuquatto e gli tirò la manica del cappotto non creiamoci altre complicazioni agente vale disse non ci saranno altre complicazioni non si preoccupi sbarazzarsi dell'auto di pattuglia fu facile erano arrivati in risposta alla segnalazione di un assembramento non conoscevano i particolari e vedevano da sé che la strada era ormai sgombra ro daniel si fece da parte e non mostrò alcun interesse per il resoconto che balay fece ai suoi colleghi un resoconto in cui i fatti venivano minimizzati e la parte avvenuta dall'automa taciuta completamente dopo balay prese ro daniel da parte e si appoggiò a un pozzo d'acciaio e cemento che sprofondava nel caseggiato stammi a sentire non ho cercato di rubare la tua fetta di gloria lo capisci la mia fetta di gloria è una frase idiomatica terrestre non ho riferito la parte che hai avuto nella faccenda hai notato non conosco le vostre abitudini sul mio mondo si usa fare rapporti completi ma forse qui è diverso in ogni caso un focolaio di rivolta civile è stato soppresso è questa la cosa più importante no lo credi ora stammi a sentire balay cercò di suonare più minaccioso possibile anche se per forza di cose doveva tenere la voce bassa non provare più a farlo di nuovo hai capito non provare a fare rispettare la legge ma se non faccio questo qual è il mio scopo non minacciare più un essere umano con un fulminatore non minacciarlo più non avrei mai sparato lì e lo sai bene sono incapace di far del male a un uomo ma come vedi non è stato necessario e lo sapevo è stata pura fortuna che tu non abbia dovuto sparare non correre di nuovo un rischio del genere avrei potuto farlo anch'io il tuo numero acrobatico numero acrobatico che cos'è non importa afferra il senso di quello che dico avrei potuto minacciare anch'io la folla con un fulminatore ce l'ho anch'io lo sai ma non è il genere di rischio che sono autorizzato a correre e lo stesso vale per te in questi casi si chiama la squadra antisommossa è più sicuro che fare gli eroi da soli daniel riflettè poi scosse la testa credo che tu abbia torto collega lì le mie istruzioni sul carattere dei terrestri dicono che a differenza delle abitanti dei mondi esterni sono inclini ad accettare l'autorità questo a quanto sembra è il risultato del vostro modo di vivere un uomo che rappresenti l'autorità con sufficiente fermezza basta sgominare una folla e io l'ho dimostrato il tuo desiderio di chiamare la squadra antidimostranti è solo un'espressione credimi del bisogno istintivo di autorità superiore che prenda in mano la situazione e ti tolga dalla responsabilità sul mio mondo lo ammetto quello che ho fatto sarebbe stato del tutto ingiustificato la faccia di bale era rossa d'ira se ti avessero riconosciuto per un robot ero certo che non sarebbe successo in ogni caso ricordati che sei un robot nient'altro che un robot soltanto un robot come commessi nel negozio di scarpe ma questo è ovvio e che non sei umano bale si sentì sconfinare nella crudeltà contro il suo volere daniel sembrò riflettere sulle ultime parole poi disse la differenza fra uomini e robot non è così marcata credo come quella fra essere intelligenti e meno intelligenti forse sul tuo mondo rispose bale non sulla terra guardò l'orologio e si rese conto con stupore di avere un'ora e un quarto di ritardo sentiva la gola secca e ad asciugà della era il pensiero che roda daniel aveva vinto il primo round in una situazione nella quale lui si era sentito del tutto impotente pensò al giovane vincent barrett il ragazzo rimpiazzato da raw sammy e a se stesso lì bale che roda daniel poteva rimpiazzare giù da ballerino suo padre almeno era stato declassato dopo un incidente che aveva causato danni ammazzato persone e feriti forse aveva veramente sbagliato ma lei non sapeva ma pensava se l'avessero rimpiazzato con un automa scienziato se l'avessero privato della qualifica solo per quella ragione non poteva farci niente disse adesso andiamo devo portarti a casa raw daniel riprese vedi è improprio fare distinzioni faziose fra gli esseri umani a parte il fattore intelligenza bale alzò la voce va bene va bene l'argomento è chiuso jesse ci aspetta si diressa al più vicino con voglio di settore sarà meglio che la chiami e l'avverta che stiamo arrivando chi è jesse mia moglie per tutti i santi pensò balei sono proprio dell'umore giusto per affrontare jesse chi è chi è chi è Grazie a tutti.